Un treno che passa, il viaggio, l'incontro che cambia la vita. Sali e scendi, sali e scendi, quanta gente diversa. La vita è il treno, non la stazione. Perquisiremo quello che resta di questo treno. 8 film in prima e seconda serata, da prendere al volo. C'è un assassino in mezzo a noi. Film avvincenti, tutti ambientati sul treno. Ho una pessima sensazione riguardo a questo treno e credo che dovremmo scendere. Il grande binario, dal 2 maggio, ogni martedì, in prima e seconda serata. Rai Movie.